Amici telespettatori, quest'oggi ci troviamo alle porte di Roma, siamo a Tivoli, una bellissima località di 60.000 abitanti che si trova a destra della capitale, una località ricca di turismo, ricca di ricordi storici ma anche di panorami suggestivi come quello che vedete. Quella che si trova alle mie spalle è la grande cascata di Tivoli, una cascata però artificiale dovuta ad un'opera di ingegneria del 1800 ma ancora oggi validissima che è stata fatta per evitare la tragedia della tracimazione del fiume Aniene che in più di un'occasione aveva creato inondazioni e anche disastri non indifferenti. Il Papa di allora, Papa Gregorio XVI, dando un appalto ad un ingegnere dell'epoca, fece in modo tale che queste acque venissero confluite attraverso un foro di entrata ed uscita. Noi invece parliamo soltanto di un foro di entrata, un vero e proprio inghiottitoio che si trova a Castelluccio di Norcia e che serve per far confluire l'acqua che viene provocata dallo scioglimento naturale con la bella stagione delle nevi. I serbatoi interni dovuti alle grandi cavità, le grandi caverne che sono all'interno del complesso orografico dei Sibillini hanno fatto in modo e in maniera che queste acque stagnassero e di tanto in tanto scissero fuori. Acqua tersa, candida, azzurra, che gli abitanti del posto chiamano quasi abitudinariamente torbidone proprio per questa sorta di empatia che c'è con questo fenomeno che di tanto in tanto appariva. Un fenomeno scomparso dopo il sisma del 1979 che ha colpito Norcia e Cascia ma ricomparso in maniera però questa volta devastante dopo la catastrofica scossa del 30 ottobre del 2016. Le caratteristiche del torbidone, del perché questa volta ha creato danni ci sono spiegate dal geologo Giorgetti che abbiamo incontrato qualche tempo fa. Vedrete infatti la loro grafia, proprio la panoramica dei monti circostanti a Norcia innevata, proprio perché era d'inverno. Quindi parliamo sempre di questo rapporto che c'è con i corsi d'acqua, i corsi d'acqua deviati, defluiti, confluiti e spesso anche subiti. Siamo nell'Interland della cittadina di Norcia, la capitale del prosciutto, del tartufo nero che da alcuni mesi purtroppo è anche la capitale del disagio e del disastro. Ci troviamo con il geologo Roberto Giorgetti. Qui siamo a Norcia, nell'entourage di Norcia in una località che si chiama Le Sorgenti del Torbidone. Giorgetti innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Giorgetti è un geologo di Spoleto e da anni studia questo territorio che purtroppo da secoli e secoli è oggetto di manifestazioni telluriche, di terremoti piuttosto rilevanti, storici, almeno per quanto riguarda il compendio di documentazione che possiamo discernere da quando abbiamo questi documenti fino a quest'oggi, quindi non possiamo andare troppo indietro con gli anni. Questo è un fenomeno, ne abbiamo parlato, ribadisco con la dottoressa Quattrocchi, il Torbidone è una sorta proprio di fiume o bacino sotterraneo esploso di nuovo dopo la scossa devastante di 6.5 di magnitudo del 30 ottobre, Giorgetti. Praticamente questo fiume è comparso, o meglio ricomparso dal nulla dopo oltre 45 anni di assoluta assenza, all'indomani della scossa del 30 ottobre scorso e a poco a poco la portata è aumentata sino ad arrivare a oltre 1500 litri al secondo, un metro cubo al secondo di portata attuale come si può vedere. Una portata enorme, peraltro vogliamo ricordare Giorgetti che questo alveo, non è un alveo naturale, ma è stato costruito appunto per far scorrere questo fiume innaturale, innaturale ma comunque sia un fiume che non c'era fino al 29 ottobre dai vigili del fuoco e dall'esercito. Ecco ci spiego una cosa importante, il Torbidone è un nome che è stato dato appositamente o comunque sia fa parte di alcune caratteristiche proprio di questo anomalo corso d'acqua che lei mi ricordava nasce dietro quella collina che noi abbiamo davanti. Sì, il nome è stato dato Torbidone però non è per la torbidezza dell'acqua ma per il Turbinio, perché come si può vedere l'acqua è limpidissima e questo denota anche una origine particolare, un'origine carsica. Lei mi ha parlato di terreno carsico, quindi terreno carsico sono delle grotte all'interno dove praticamente quest'acqua si accumula come un'acqua di scolo da altre zone che sono qui intorno. Sì, appunto poi dicevo che ci fu un altro professore universitario, il Lippi Boncampi, che dalla fine degli anni 40 fino agli anni 60 provò a cercare una correlazione fra le acque che uscivano saltuariamente dalla sorgente del Torbidone e l'area del bacino di Castelluccio di Norcia dove c'è un inghiottitoio, l'inghiottitoio mergani che smaltisce tutte le acque che precipitano nel bacino chiuso del pian grande dei piani di Castelluccio. è pari a circa 60 milioni di metri cubi l'anno e quindi l'inghiottitoio smaltiva tutta questa portata che però non si sapeva dove andasse a finire. Tanto che sempre Lippi cercò di colorare queste acque con circa 10 kg di fluorescina sodica, un colorante capace di colorare 10 kg, possono colorare oltre 30 milioni di metri cubi d'acqua. Lui controllò per vari mesi tutte le sorgenti attorno dalla parte di Norcia, dalla parte di Arquata, dalla parte di Capodacqua eccetera eccetera e da tutte queste sorgenti non venne mai fuori niente. In quel periodo però le sorgenti del Torbidone erano in secca e quindi lui fece una ipotesi abbastanza suggestiva che tutta questa quantità di colorante fosse stata smaltita da un immenso bacino sotterraneo interno. Un serbatoio all'interno di queste montagne? Sì, praticamente un serbatoio carsico capace di immagazzinare centinaia di milioni di metri cubi d'acqua. Un immenso sifone che a poco a poco si riempiva nel corso degli anni, superato una certa soglia si innescava e quindi svuota all'improvviso tutta questa massa d'acqua. Questi studi di Lippi Boncampi risalgono a quanti anni fa? Risalgono agli anni 60. Quindi abbastanza contemporanei se non proprio recenti. Voi ovviamente negli anni avete approfondito però mi sembra di aver dedotto da quello che lei mi racconta che la fuoriuscita adesso è stata devo dire contestuale al sisma di 6.5 del 30 ottobre ma prima no, erano praticamente questi serbatoi all'interno di queste grotte carsiche naturali che si riempivano e quindi facevano fuoriuscire questo fiume principe che è questo torbidone. Certamente. Bisogna anche dire che era da metà degli anni 70 che il torbidone non buttava più e quindi sembrerebbe che dopo il sisma del 79 qualche cosa abbia bloccato questa fuoriuscita. Si può spiegare questo con il fatto che la faglia sismogenetica che si è mossa e quindi ha intercettato questo acquifero che si sta svuotando attualmente. Possiamo anche dedurre che essendo delle grotte magari con il sisma del 79 c'è stata la caduta di qualche masso, di qualcosa che ha occluso la fuoriuscita che poi è stata di nuovo effetto inverso permessa attraverso dei neati, attraverso delle aperture interne dall'altro sisma, quello ancora più forte di questo 2016 appena trascorso. Quindi torbidone uguale fenomeno di sfogo delle acque, scolo delle acque naturali mi pare di aver capito. Nulla di allarmante fin qui se non ci fosse il rischio trascimazione dei fiumi circostanti. Sì, bisogna anche dire però che non è necessariamente pensare a un sistema carsico tipo fra sassi con dei vuoti immensi. E perché? Perché il fenomeno carsico in questi territori è abbastanza giovane, quindi non ha avuto molto tempo per poter sviluppare grandissimi vuoti. Però è possibile che il bacino interno capace di ospitare tutta quest'acqua sia costituito da tutto un sistema fessurativo. Praticamente la roccia è tutta fessurata, vacuolare e quindi contiene tutta quest'acqua che è stata intercettata dalla faglia. Poi questo qui purtroppo attualmente non è possibile testarlo. Ecco, ma lei è anche speleologo come diceva prima, quindi lei fa anche studi approfonditi non solo sulle rocce ma anche su quelle che sono le cavità. Entra dentro le montagne. Ha mai provato, o quantomeno avete realizzato studi negli anni recenti su queste montagne, queste belle montagne che ahimè però a cadenza quasi ventennale producono un forte sisma? Sì, io sono responsabile del gruppo speleologico del CAI di Spoleto, fra l'altro. All'inizio degli anni Ottanta abbiamo tentato assieme altri gruppi, il gruppo di Faenza e il gruppo di Rennolfe di Cessi, di Terni, una campagna di sostruzione dell'inghiottitoio Mergani, quello che smaltisce tutte le acque della piana di Castelluccio. Siamo penetrati attraverso uno scavo verticale per 15 metri di profondità, trovando un piccolo vuoto, però ci siamo dovuti fermare per mancanza di fondi e per la sicurezza. E mentre prima, quando arrivava l'acqua all'inghiottitoio con lo scioglimento delle nevi, l'acqua era talmente tanta che faceva un lago, dopo che abbiamo effettuato questo scavo, noi l'acqua entra dentro la cascata e attualmente è libera. Quindi diciamo che un ipotetico passaggio proprio sulla parte viva della roccia e quindi del sistema carsico non dovrebbe essere molto più profonda, dovrebbe essere abbastanza accessibile, però attualmente per ragioni proprio di logistica e di pericolosità non è possibile farlo. Bene, lei ci ha illustrato un poco le origini leziogenesi, come si dice nelle patologie, questo è un termine medico di questo torbidone, mi pare di dedurre che è un fenomeno del tutto particolare, strano, naturale, che aiuta anche lo studio, lo studio orografico interno di quest'area, più che orografico, geologico, per meglio dire, tutto bene se non fosse per il pericolo, come ribadisco, tracimazione. Lei, come ultima domanda che le voglio porre, mi parlava del pericolo che c'è con i piccoli affluenti locali, il fiume Sordo, il fiume Corno, che si trova nella cui vicina Serra Valle di Norcia. Sì, praticamente il torbidone con questa sua portata di un metro e mezzo al secondo, cubo al secondo, ha praticamente raddoppiato la portata del fiume Sordo che nasce qui sotto alle marcite. Volevo aggiungere un'ultima cosa, che attualmente le acque del torbidone, praticamente tutto questo particolare fenomeno è sotto visione di vari enti, sono varie università, l'Università di Perugia, l'Università di Chieti che si stanno occupando delle analisi, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con la dottoressa Quattrocchi e stiamo facendo dei prelievi per le analisi isotopiche del contenuto di gas di queste acque particolari. Bene, io la ringrazio dottor Giorgetti e le auguro comunque sia che questi campionamenti possano avere un esito breve in modo tale che noi seguiremo con grande attenzione queste che non sono lezioni di geologia oppure di sismo geochimica che ci ha fatto la Quattrocchi, ma sono proprio le chiavi di lettura del terremoto, di come si origina un terremoto ma come ci si può difendere dallo stesso. Ringraziando il dottor Giorgetti e rimandandovi ad altri appuntamenti.